Ancora con le braccia al cielo a quasi 200 giorni di distanza, a sei mesi dall'ultimo impegno ufficiale prima dell'interruzione a causa Covid, la vittoriosa trasferta in Russia in Champions con Novi Urengoi, Sir Perugia riallaccia subito il feeling con il successo superando al Palavarton 3-0 Leo Schuss-Modena nella semifinale d'andata della Supercoppa italiana, manifestazione che funge da overture per la stagione 2020-2021. Un match equilibrato soprattutto nei primi due parziali conquistati ai vantaggi dai bianconeri per 26-24 e 25-23 prima del 25-20 del terzo periodo. Esulta a fine gare il pubblico del Palavarton, 620 supporters che nel massimo rispetto del protocollo hanno finalmente ripreso possesso del proprio posto al palazzetto. Con Atanasievic, Russo e Box e Leon, il miglior realizzatore di Perugia, con 16 palloni vincenti e 3 ace ma super la prestazione del centrale argentino Solè con 12 punti, 5 muri e il 70% in primo tempo. Ottimo colaci in seconda linea, sempre sul pezzo Travis e Regia, doppia cifra anche per Plotnischi che ne mette 10 tenendo bene sia in ricezione che in attacco. Il primo round della semifinale è dunque di Perugia, a Modena domenica prossima il match di ritorno dove si deciderà la qualificazione alla finalissima. Un buon esordio, un buon risultato sicuramente, 3-0 contro Modena in casa benissimo. Non siamo sicuramente contentissimi per il gioco perché abbiamo tantissime cose da migliorare e su cui lavorare, ma questo lo sapevamo. La partita di oggi ce l'ha confermato, però sono molto contento per come siamo stati in campo nei momenti caldi. Quindi nei finali di set, i primi due set sono finiti ai vantaggi e siamo stati lucidi, pazienti, con la cattiveria giusta e questo è una cosa che è difficile allenare. Sicuramente domenica prossima a Modena troveremo una squadra più agguerrita, più preparata e dobbiamo esserlo anche noi per cercare di fare giultato. Questa guarda veramente la dobbiamo cancellare perché è un qualcosa ma ci aspetta una settimana di lavoro bello tosto per migliorare. Abbiamo adesso le possibilità di vedere cosa facciamo e sappiamo su che punto possiamo migliorare. Penso che non è ancora il nostro livello dove possiamo essere alla fine della stagione, stiamo ancora crescendo e quindi portiamo questo 3-0, facciamo qualche passino avanti questa settimana e andiamo lì con un sacco di fiducia.